Buonasera e bentornati a Flash News, l'appuntamento quotidiano con l'informazione sui canali di Per Sempre News. Iniziamo il notiziario di oggi con il caso della morte Giulia Tramontano. Il rapporto dei consulenti psichiatrici, presentato alla Corte d'Assise di Milano, ha aperto una nuova prospettiva nella strategia di difesa. Si sta cercando di dimostrare che Impagnatiello potrebbe aver agito in uno stato di blackout mentale, causato dal presunto disturbo psichiatrico. Questo potrebbe portare alla richiesta di una perizia psichiatrica più approfondita per determinare se ci fosse un vizio di mente al momento del crimine. Il processo ha rivelato dettagli scioccanti sul presunto comportamento di Impagnatiello nei confronti della vittima. Secondo l'accusa, avrebbe tentato di avvelenare Giulia per mesi, somministrando le sostanze tossiche come il topicida e l'ammoniaca, senza che lei ne fosse consapevole. Questa presunta premeditazione aggiunge ulteriori complicazioni al caso, che l'accusa ha sollevato l'accusa di omicidio volontario aggravato. Le prossime tappe del processo vedranno il confronto tra le testimonianze dell'accusa e della difesa. Gli avvocati di Impagnatiello, Giulia Geradini e Samantha Barbaglia, cercheranno di sostenere la loro teoria, portando in aula lo psichiatra Ragnaro Rossetti e la psicologa Silvana Branciforti, autori della consulenza difensiva. Passiamo allo sport e all'NBA. Ieri sera si sono giocate tre partite dei play-off NBA, con vittorie di Denver, Orlando, con banchiero protagonista, AI Philadelphia, con NBA che ha segnato 50 punti. I Nuggets, campioni, sono ad un passo dalla vittoria contro i Lakers. I Denver Nuggets sono in vantaggio per 3-0 contro i Los Angeles Lakers, battendoli alla Crypto.com Arena per 115-112, ancora una volta, Jokic è stato la forza trainante, sfiorando una tripla doppia con 24 punti, 15 rimbalzi e 9 assist. Anche le doppie doppie di Aaron Gordon, 29 punti e 15 rimbalzi, AI e Michael Porter Jr., 20 punti e 10 rimbalzi, hanno avuto un impatto. Questa segna l'11-88esima sconfitta consecutiva per i Lakers contro Denver, mettendoli sull'urlo dell'eliminazione. I 33 punti e 15 rimbalzi di Anthony Davis e i 26 punti e 9 assist di LeBron James non sono stati sufficienti. Chiudiamo il notiziario di oggi parlando di Weinstein. Svolta incredibile nella vicenda Harvey Weinstein, la Corte Suprema dello Stato di New York ha revocato la condanna per reati sessuali. Il motivo è relativo all'errore commeso dal giudice che nel febbraio 2020 condannò l'ex produttore a 23 anni di prigione. Chiamò infatti a deporre le donne le cui accuse non erano parte delle incriminazioni nei confronti dell'imputato. Nel 2022 poi Weinstein fu condannato per stupro, con un'altra pena di 16 anni da scontare. Ora il giudice Alvin Bragg deve decidere se mettere di nuovo sotto accusa l'ex capo della Miramax. La decisione della Corte di New York è stata presa da un collegio di giudici, composto a maggioranza da donne, con quattro voti contro tre a favore della revoca della condanna. Nel 2020, le donne Lauren Young, Don Dunning e Tarale Wolf, testimoniarono riguardo i loro incontri con Weinstein sulla base di una legge statale che autorizza deposizioni su «precedenti malefatte», a dimostrazione della preesistenza di uno schema di cattivi comportamenti da parte dell'imputato. Ma la Corte ha deliberato che, nel nostro sistema di giustizia l'accusato ha diritto a rispondere solo del crimine per il quale è stato incriminato. Nonostante il grande movimento cancelletto MeToo che ha portato più di 200 donne a denunciare Weinstein, la condanna di New York è sempre risultata impugnabile per via della sua criticità. Queste erano le notizie di oggi, vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con Flash News sarà lunedì, sempre sui canali di Per Sempre News. Buona serata. Grazie a tutti.